La Big Academy è un progetto che nasce nel 2020, nasce per l'accordo, meglio dire, dalla constatazione di cinque grandi imprese del territorio toscano di una necessità, di un bisogno che è quello di andare a aumentare il livello di competenze manageriali, il livello di competenze in genere nel tessuto industriale locale. Noi abbiamo una catena di fornitura estesa in tutto il paese, ma essendo radicati nel territorio toscano, ovviamente abbiamo una catena di fornitura molto diffusa nel territorio toscano. Ci siamo resi conto che la managerialità, la capacità di interpretare e adattarsi ai cambiamenti era un fattore determinante e con questo progetto Big Academy cerchiamo di dare una risposta a questa necessità. Quindi abbiamo sostanzialmente creato un programma di alta formazione manageriale.